Il familiare vede il proprio congiunto cambiare radicalmente la sua percezione del sé, ma soprattutto i rapporti all'interno della famiglia cambiano in maniera sostanziale con un problema nella gestione di queste persone. Sono 48.000 in Toscana i malati di Alzheimer, l'80% di questi è assistito in famiglia, una patologia con un importante impatto emotivo e fisico anche proprio sui caregiver. L'Alzheimer ha sgretto le ricordi compromettendo anche i legami affettivi, alterando i comportamenti fino a modificare la percezione della realtà, trascinando a volte nella disperazione anche chi si prende cura di loro. Lo scorso giugno ad Arezzo un 80enne aveva ucciso la moglie, malata da tempo, a Prato invece nelle ultime ore un'anziana ha soffocato il marito. La persona colpita dall'Alzheimer e dalle demenze in genere modifica gradualmente il proprio contatto con tutti gli altri familiari e i familiari non sono sempre in grado di accettare questa situazione. Fondamentale è dunque l'assistenza anche per i caregiver. Ad Arezzo un supporto arriva grazie al progetto Atedom. Con figure professionali come lo psicologo che sono specificatamente rivolte all'aiuto e all'accettazione di questa patologia. Nella zona distretto di Arezzo ad esempio abbiamo attivato sette casi in particolare negli ultimi mesi con un supporto specificatamente rivolto con pacchetti ad hoc. Presente infine su tutto il territorio la rete di centri disturbi cognitivi e demenze per attivare un'eventuale presa in carico da parte di un'equip specializzata. Abbiamo comunque difficoltà perché ripeto molte delle situazioni rimangono sotto traccia e solo quando poi diventano qualcosa di molto eclatante a quel punto anche le famiglie iniziano a chiedere aiuto.